Nuovo nome per il centrocampo del Napoli su cui il DS Giovanni Mann è al lavoro. Si tratta di Billy Gilmour, talento scozzese in forza al Brighton. Per il club inglese il tecnico Fabian Hurtzeler è un giocatore molto importante e in questo momento non sarebbero intenzionati ad ascoltare offerte per lui. Il centrocampista classe 2001 ha collezionato 30 presenze nell'ultima stagione di Premier League e ha un contratto che lo lega ai Seagulls fino al 2026. La conferma ufficiale dell'interessamento del Napoli per Gilmour è arrivata direttamente dal CEO del Brighton, Paul Barber, che ha parlato così ai microfoni di TalkSport. Non abbiamo sentito o ricevuto nient'altro dal Napoli dopo che abbiamo rifiutato una prima offerta da parte loro. Billy è un giocatore molto importante per noi e stiamo cercando di trattenerlo. È un ragazzo fantastico e un'ottima presenza all'interno della squadra. Sappiamo che molti dei nostri sono finiti nel mirino di altre società e dobbiamo conviverci e gestire questa cosa sapendo chi siamo e a che punto siamo del nostro percorso.